Ciao ragazzi, ed eccomi qui con un altro video. Allora, siccome io oggi mi hanno invitato per un happy hour in un bar, appunto volevo sapere se secondo voi è adatto a questo abbigliamento che ho messo io praticamente oggi. Adesso vi faccio vedere. È una camicetta color grigia, bianca con le strisce grigie e i pantaloni grigli e le scarpe. Praticamente l'abbigliamento mio di oggi, non ho né gioielli, niente, ho questi orecchini qua praticamente, questi qua grigli e niente, spero che vi piaccia. Fatemi sapere voi nei commenti, ovviamente. Vedete? Questo è il mio abbigliamento oggi. Niente, fatemi sapere voi se un abbigliamento è adatto, perché secondo me è adatto, mi piace molto come mi sta, fatemi sapere anche se vi piace a voi come mi sta, niente, questa è tutta la persona con altri video. Baci!